Ed ecco il fiume Mahanadi, quasi parallelo al Gange. È un esempio delle forze della natura. Non v'è ponte capace di resistere alla furia delle acque quando vengono rese turbinose dai monsoni. Si è cercato di dominare questa furia. Nel Mahabharat, il grande poema epico dell'India e specialmente nella Ghita, il libro dedicato alla filosofia della vita, è detto che ogni parola che si pronuncia e ogni azione che si compie restano sempre davanti a noi come immagini riflessi in uno specchio. E il giudizio non sarà pronunziato che dopo. Ed è detto inoltre, il sapiente e l'ignorante sono ugualmente felici, infelici sono i mediocri. La verità è in ogni cosa e anche sia pure parzialmente in ciò che non è vero. Il karma, cioè l'azione, rappresenta il dovere dell'uomo. È stato costruito lo sbarramento di Hirakud, una diga lunga 43 chilometri. Si stanno costruendo le vie d'accesso. È stato formato un immenso lago artificiale il cui livello sale ogni giorno. Le cime degli alberi ricordano che un tempo la giungla arrivava fin qui. Nel cantiere eravamo in 35.000. Era duro sì, ma ce l'abbiamo fatta. Sette anni di lavoro. Ma per me il tempo è volato. Un colpo di piccone su un colpo di piccone. Un cesto di terra dopo un cesto di terra. Una pietra dopo l'altra. E abbiamo escavato, perforato, espianato, costruito. Quanto? Quanto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.